Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. L'ospite di oggi, come si dice in questi casi, è un teologo che non ha bisogno di presentazioni, Don Pierangelo Sequeri. Benvenuto. Grazie. Parliamo di un tema fondamentale, importante. Ci abbiamo appena riflettuto con la festività del Natale, l'Incarnazione, che è stato anche il tema su cui tu hai lavorato con il tuo ultimo libro che si chiama Il grembo di Dio. Però cominciamo non dal tuo libro, ma dalle parole di Papa Francesco. Nel Vangelo di oggi ci viene detto che la parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Si fece carne. Perché San Giovanni usa questa espressione carne? Non poteva dire in modo più elegante che si fece uomo? No. Utilizza la parola carne perché essa indica la nostra condizione umana in tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità. Ci dice che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità. Dunque, dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. Non c'è nulla che egli desdegni. Tutto possiamo condividere con Lui. Tutto. Caro fratello e cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti, che ti ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità, proprio lì, dove noi ci vergogniamo di più, dove tu e tu ti vergogni di più. È audace questo. È audace la decisione di Dio. Si fece carne proprio lì, dove noi tante volte ci vergogniamo. Entra nella nostra vergogna per farci fratello nostro, per condividere la strada della vita. Si fece carne e non è tornato indietro. Non ha presso la nostra umanità come un vestito che si mette e si toglie. No. Non si è più staccato dalla nostra carne, neppure stancato. No. E non si separerà mai. Ora e per sempre, Egli è in cielo, col suo corpo e carne umana. Si è unito per sempre alla nostra umanità. Potremmo dire che l'ha spossata. Che significa dire, come dice Papa Francesco, che Dio non è tornato indietro dopo essersi fatto carne? E questa è la seconda cosa bella di questo bel barano complimenti che avete scelto. La prima cosa bella è Dio si è fatto carne e la cosa non va alleggerita. La Chiesa Primitiva ha combattuto una battaglia infuocata per difendere il realismo di questa cosa. Spiegacelo meglio però, perché che cosa significa che non va alleggerito il fatto che si è fatto carne? Non va alleggerito vuol dire che non è una metafora, non è un'immagine. Non ha preso sembianza di uomo per farsi vedere da noi, ma in realtà non è mai diventato un uomo. Invece la Chiesa dice all'inizio, e guardate, questa battaglia dell'inizio è avvenuta contro tutto il resto del mondo. Una manciata di cristiani contro il resto del mondo, la partita dell'epoca. Perché la migliore filosofia, quella greca, era spiritualista. Cioè la carne, per l'amor di Dio, dobbiamo sopportarla ma sarebbe meglio se non ci fosse, no? Le migliori, le più antiche religioni orientali è il grande spirito che è destinato a prenderci tutti. La carne è un'apparenza appunto, no? È un modo di vedere le cose che però svanisce con i nostri occhi. E persino la letteratura spirituale più alta dell'ebraismo, e cioè la lettura allegorica, la lettura metaforica, no? Per immagini dell'Antico Testamento, che noi chiamiamo Antico Testamento. Cioè dove le battaglie sono battaglie dell'anima, dove i nemici sono nemici dell'anima, dove le visioni sono visioni dell'anima. Assolutamente erano contrari a questa cosa. All'idea dell'incarnazione reale, di un'incarnazione reale, farsi uomo realmente. Un padre dell'inizio, del secondo secolo, che si chiama Tertulliano, il quale non era tanto indulgente dal punto di vista pratico, no? Sul piano del costume, della morale, eccetera. Era piuttosto severo. Uno dei primi che ha scritto un libretto per le ragazze, che diceva come dovevano vestirsi. Scusate, che adesso noi diciamo, insomma, un po' imbarazzante, no? Ecco. Beh, quello lì ha coniato una formula. Credo che si sarebbe staccato un braccio per non doverla dire. Ma l'ha detta perché, appunto, è stato folgorato dalla verità del cristianesimo. La frase è Caro, cardo salutis. La carne, non lo spirito, la divinità, eccetera. La carne è il cardine della nostra salvezza. Beh, cosa volete di più? Questa è la prima roba. La seconda roba bella che il Papa ha detto, rievocando questa battaglia, della quale, scusate, al catechismo non dite quasi niente. E non va bene. Seconda cosa. La seconda cosa è non l'ha dismessa. Questo noi non l'abbiamo mai teorizzato, però l'abbiamo quasi lasciato intendere. Finito il lavoro, la risurrezione fa il grande botto per darci la prova che era veramente Dio e ritorna a Dio, come era prima. E invece il Papa dice, con la migliore tradizione, appunto, degli inizi del cristianesimo, guarda che c'è un omino là dentro. è cambiato qualcosa in Dio. Dentro c'è un omino, carne della nostra carne. Capisci? In Dio c'è un uomo. Che non ha nessuna intenzione di restare da soli. Da solo. Ecco perché, scusa, se finisco con questa battuta, l'incarnazione per il cristianesimo non è semplicemente un evento. È un destino. E quindi ha cambiato l'incarnazione? Diciamo il Natale, ma poi tu utilizzi un altro momento della vita di Gesù per segnalare l'importanza dell'incarnazione. Ha cambiato non soltanto la storia dell'uomo, ma ha cambiato anche la storia di Dio? Sì, signore. L'identità di Dio? Sì, signore. Diciamo, no, non ha cambiato l'identità di Dio. Questo è il bello, perché attraverso l'ascensione, possiamo dire, no? Il ricongiungimento del figlio con il padre, ma che si porta la sua umanità, noi abbiamo scoperto la natura trinitaria di Dio, la realtà trinitaria di Dio, capisci? Cioè abbiamo scoperto che Dio non è cambiato, non ha cambiato la sua identità per l'incarnazione, ma piuttosto ne ha rivelato il mistero che non potevamo neanche sospettare. E cioè che Dio, fin dall'inizio e per tutta l'eternità, è generazione. Non è mai stato autistico. È sempre stato unico, ma non solo, capito? Non autoreferenziale. All'inizio la parola di Dio, la parola che definisce Dio, è generazione. Senza la generazione del figlio, Dio non è mai stato Dio. Ecco perché in qualche modo ci ha rivelato appunto la pienezza della sua identità, più che cambiare strada, dicendo, beh, mi faccio una partita con l'uomo e poi vediamo. Torniamo alle parole di Papa Francesco. La logica degli ieri è facile. La logica dell'oci è facile. La logica del domani è facile. Tutti moriremo. Ma la logica del dopo domani è difficile. E questo è quello che Paolo vuole annunziare oggi. La logica del dopo domani. come sarà quello. Come sarà quello. La risurrezione. Cristo è risorto. Cristo è risorto. È ben chiaro che non è risorto come un fantasma. Nel passo di Luca, della risurrezione. Ma toccatemi. Un fantasma non ha carne, non ha ossa. Toccatemi. Datemi da mangiare. La logica del dopo domani è la logica nella quale entra la carne. Abbiamo paura di accettare e portare alle ultime conseguenze la carne di Cristo. È più facile una pietà spiritualistica, una pietà delle sfumature, ma entrare nella logica della carne di Cristo. Questo è difficile. E questa è la logica del dopo domani. Noi ressusciteremmo come ha risorto Cristo con la nostra carne. Che significa portare alle ultime conseguenze la carne di Cristo? Tu dicevi prima che i cristiani dei primi secoli hanno combattuto e vinto una battaglia, quella di non disprezzare la carne rispetto allo spirito. Però poi non so se questa battaglia l'abbiamo continuata a sostenere nella nostra storia di Chiesa. Perché in fondo nella nostra testa è prevalso lo schema. Vabbè, alla fine con la morte sì, resurrezione dei corpi, però alla fine della morte quello che conta è che l'anima si ricongiunge con la grande anima di Dio. L'abbiamo un po' raccontata così. Il Papa dice di portarla fino alle estreme conseguenze, fino appunto alla vita eterna. Che significa? Sì, non è sbagliata questa cosa. È evidente che l'anima si ricongiunge con Dio. Non discutiamo. Purtroppo però questo dogma, diciamo questa precisazione dogmatica, si è mangiata tutto il resto. Ecco l'errore. Non è lei che è sbagliata. È che si è mangiata tutto il resto e è rimasta solo lei. Quindi il bello del cristianesimo che deve venire il dopodomani, dice, no? Perché dopodomani? Perché il bello del cristianesimo è in relazione con il presente e con il passato. Non è il punto finale dell'evoluzione così fortunati che arrivano alla perfezione del movimento evolutivo se la godono e noi che siamo venuti prima e purtroppo ce ne fanno. Siamo nel buco del lavandino della storia. Il dopodomani è importante perché non è un tempo futuro del mondo. Capisci? È il dopodomani di Dio che è dopo ieri, dopo oggi e dopo il domani del nostro tempo. Allora, si è mangiato questo dogma dell'anima tutto il resto, ci ha tolto il bello che deve venire che il credo della messa basterebbe questo, che il credo della messa ci restituisce. Credo nella risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ora, la vita del mondo che verrà è la vita del mondo che verrà, non la vita dell'anima semplicemente, capisci? E noi diciamo però è dura perché quasi quasi la sopravvivenza dell'anima in colore, in odore, in sapore ci sembra quasi più facile da immaginare. Non lo è, ma comunque ci sembra più facile. Ma la vita del mondo che verrà? Beh, io vi dico è vero che tutta questa parte pensate alla finale dell'Apocalisse noi l'abbiamo ingiustamente sacrificata. Vi faccio soltanto un cenno per ricordarvi che cosa ci perdiamo. Quando Gesù si congeda dai Suoi discepoli, perché ormai è il momento della separazione, no? Sapete qual è l'ultima parola? Vi ricordate qual è l'ultima parola che dice? D'ora in avanti non berremo più insieme ma quando ritornerò lo rifaremo. Capisci? La vita del mondo che verrà comincia con un brindisi Dio, scusa, Gesù in quel momento così drammatico non avrebbe detto a perdire soltanto una battuta. Capisci? È una promessa. Ricomincia da un brindisi. Noi crediamo che il Signore ritorna con la vita di un mondo che verrà perché se no non c'è vita. non c'è vita corrispondente alla creatura che siamo e che Dio ci ha fatto. Capisci? Sarebbe snaturarci. Se non ci fosse un mondo noi saremmo snaturati. Se non ci fosse una compagnia di uomini, donne e bambini noi saremmo snaturati. Quindi ci dobbiamo immaginare... E questo inizio da qualche parte è in Dio perché c'è un omino là. Ci dobbiamo immaginare un paradiso di carne divino ma anche... Ora, parafraso un po' quello che hai detto tu di vino. Sì. Sì. Dobbiamo immaginarci e il Papa lo dice però è il paradosso del cristianesimo perché carne anche lei come spirito è una parola un po' equivoca no? Dipende a seconda di come la intendi. Però anche qui è la scommessa del cristianesimo. Noi non rinunciamo a sta roba. Sarà un mondo di carne. e Paolo dice non lo so bene ma sarà un mondo di carne. Vi ricordate nella lettera di Corinzi quando spiega la carne si può realizzare in molti modi. Noi stessi abbiamo scoperto adesso l'entanglement. Sapete quella pare quella legge della fisica quantistica secondo la quale quando due particelle si sono incontrate non si dimenticano più l'una dell'altra. Rimangono in relazione qualunque sia il loro movimento nel cosmo. Beh vabbè se possiamo visualizzare questa cosa voglio dire ci sono tanti modi per entrare in rapporto con il corpo che noi ci ricordiamo ma in maniera profondamente diversa dal modo con cui l'abbiamo vissuta. Dopotutto anche il mito del mito scusate l'ipotesi standard del Big Bang se ci pensate perché non dovremmo giocarcela noi il cristianesimo qualche scommessa un po' forte non la vuole fare di nuovo come l'hanno fatta i nostri antichi padri pensate alla ipotesi standard si chiama perché è un'ipotesi scientifica del Big Bang allora fate un esperimento mentale con me immaginatevi di essere dentro sapete com'è l'ipotesi no? L'ipotesi è che ci sia all'inizio una singolarità assoluta perché assoluta è perché non c'è niente altro non è comparabile con niente piena di energia un puntino pieno di energia che a un certo punto esplode nasce l'universo nasce il mondo arrivano i cricetti la divina commedia la quinta sinfonia di Beethoven le nostre canzoni inimmaginabile inimmaginabile insomma ma chi se se eri dentro lì ti immaginavi questa roba tutto ti sarai sentito pieno di energia ti sentivi bello tonico scattante caldo molto erotico ma non immaginavi niente di tutto questo beh scusate la vita del mondo che verrà c'è una cosa però no? tu prima dicevi che i cristiani ritorno ancora lì hanno difeso l'idea del corpo contro tutti sì eppure oggi tante volte noi cristiani sembriamo quelli che denigrano il corpo contro un mondo che a volte lo idolatra ma comunque ne parla di solito meglio di come ne parliamo noi sì dunque l'abbiamo difesa dogmaticamente e questo è un miracolo e dovresti insegnare ai bambini ai bambini nel catechismo perché non si insegna anche un po' di storia gli assi portanti della storia della chiesa della storia della comunità credente le impareranno la storia della chiesa i nostri bambini le imparano al liceo quando vanno al liceo e come le imparano? che è la storia delle crociate delle streghe dell'inquisizione ecco che affare che facciamo e invece gli raccontassimo questa roba che quando eravamo quattro gatti abbiamo bucherellato gli imperi siamo usciti dalle catacombe e avevamo questa roba gente non disperatevi perché anche la nostra carne è benedetta cosa volete di più per vincere la partita allora ecco qual è il punto sul quale noi possiamo inquadrare questo fenomeno che tu dici dogmaticamente l'abbiamo difesa ed è già molto moralmente parlando dal punto di vista del costume siamo stati un po' più vulnerabili cioè abbiamo dato un po' di corda all'idea che la carne il peccato è più o meno la stessa cosa che il peccato la stessa cosa che la corruzione pensate che i peccati dello spirito sono molto più gravi le perfidie i genocidi sono peccati dello spirito non sono impulsi di uno che mi offende e gli salto addosso che è anche umano comprendere no no sono robe premeditate capisci va bene siamo stati un po' indulgenti abbiamo dato inerzia però sentite la nostra attenuante è questa primo che abbiamo difeso il dogma a rigore si poteva sempre dire no la carne è buona perché l'ha creata Dio primo secondo sentite tutto il mondo ha pensato questo voi dite certo nel medioevo no gioia nel medioevo erano più allegri di noi sulle questioni della carne è dopo che incomincia col puritanesimo di dopo che è incominciato con la modernità razionalistica e mentale che è incominciato l'idea che le facoltà superiori sono quelle della mente cioè dell'immateriale e le facoltà invece del corpo sono quelle di basso livello gli istinti le pulsioni e tutte queste robe eccetera quindi la cosa è andata avanti per noi fino a metà del novecento con il concilio Vaticano II la Chiesa ha detto bisogna pareggiare i conti quello che abbiamo difeso sul piano del dogma lo dobbiamo recuperare anche sul piano della morale della mentalità del comportamento e di fatti lo stiamo facendo però guardate che la cultura laica e secolare essa stessa fino ai primi del novecento cioè fino all'arrivo dei Marx i Freud e quelle robe l'inso Nietzsche e la filosofia della vita eccetera fino agli inizi del novecento anche lei era su questo standard senti l'ultimissima domanda ma abbiamo un minuto solo capisco che l'incarnazione avete preso un argomentone no tu l'hai preso con il libro che lo ricordo il grembo di Dio le conseguenze dell'incarnazione nella vita cristiana concreta qui ed ora sono chiare anche se le tradiamo spesso cioè di un amore concreto pienamente umano fatto di gesti il Papa utilizza il verbo toccare che è un verbo che noi non usiamo nel linguaggio religioso hai ragione recuperare tutta questa dimensione e quali sono le conseguenze ne hai appena parlato un po' già però io trovo che quando poi ci concentriamo tanto giustamente sulla carne e sulla terra ci dimentichiamo quello che per secoli era il cuore dell'annuncio cristiano forse troppo forse esagerato forse solo spirito appunto la vita eterna che conseguenze ha prendere sul serio l'incarnazione non solo qui e ora ma anche dopo domani sì guarda visto che c'è poco tempo ve lo dico con una battuta ma voi siete intelligenti e la capite bisogna rendere musicale il corpo la musica è un esperimento straordinario che ti ti convince che anche le parti più materiali il movimento la vibrazione dei corpi in realtà toccano l'anima toccano l'anima e questo miracolo dici come sono suoni sono vibrazioni sono cose fisiche eppure quando diventano musica toccano l'anima toccano l'interiorità ecco noi siamo rozzi perché la riscoperta del corpo io non voglia per il cristianesimo ma per tutti in questo momento la riscoperta del corpo è riscoperta della sua rozzezza della sua mancanza di musicalità perde il tema appunto dei rapporti fini degli sguardi penetranti dei toccamenti appunto che non aggrediscono che non sono possessivi che non sono violenti lo vediamo la cronaca ci dice in questo momento il ritorno prepotente della vita del corpo della quale la pubblicità commerciale naturalmente ci invita a godere il più possibile va bene ecco ritornano sotto forma di pulsioni distruttive il nostro confronto con i corpi in questo momento è di nuovo dominato dall'immagine della guerra della violenza il femminicidio compagnia bella capisci ecco perché perché da tempo avendolo trascurato dopo averlo rimosso lui è ritornato come dice Freud nella forma vendicativa ritorno chiudiamo con la musica ritorna e si vendica capito invece la musica la musicalità è quella che è capace di intuire le qualità spirituali della forma corporea e questo sarebbe il principio di una relazione che non si distrugge più dopo grazie davvero Don Pierangelo noi ci rivediamo domani come sempre a 17.30 buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti